La fisicità, il rispetto al nostro corpo, è un elemento che da tempo ha acquisito una rilevanza nella nostra società e che è diventato ancora più centrale dopo questi anni di privazione legati alla crisi pandemica. Ma cosa rappresenta il corpo in particolar modo per i ragazzi che crescono? Ne parliamo con il professor Simone Di Gennaro, presidente dei corsi di laurea in scienze motore dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e autori del libro Non sanno neanche fare la capovolta, il corpo dei giovani e i loro disagi. Benvenuto, professore. Grazie, grazie mille per l'invito, felice di essere qui. Professore, come cambia la consapevolezza del corpo nel tempo e qual è la concezione del corpo nei giovani del XXI secolo? La modernità, ci insegna Foucault, inizia quando l'uomo si accorge di avere un corpo. A lungo l'uomo ha vissuto all'interno del suo corpo, non ne ha capito il funzionamento, non ne capiva il funzionamento, non ne conosceva le leggi biologiche che lo regolano, lo subiva da un certo punto di vista. I primi tentativi di impossessarci del nostro corpo li abbiamo avuti nel momento in cui abbiamo cominciato a decorarlo, ad abberlirlo, a modificarlo. Poi successivamente con l'aiuto della scienza abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo a fondo, di conoscere i meccanismi che lo regolano, di cularlo, di modificarlo. Negli ultimi anni, con lo sviluppo della tecnologia, abbiamo avuto questa incredibile possibilità di moltiplicarlo. Il ventunesimo secolo ha celebrato il trionfo del corpo. Se uno ci pensa nella nostra società tutto è corpo, sui media in particolare, nella religione, nella religione cattolica in modo particolare, una religione che si fonda sul corpo. Nella quotidianità siamo inondati da corpi e quindi abbiamo l'illusione di conoscerlo a fondo, di poterlo padroneggiare, di poterlo far nostro completamente. Ma come ci insegna Cartesio, che è stato, se volete, l'iniziatore di questa scissione tra mente e corpo, Cartesio ha affermato che è molto più facile comprendere l'anima piuttosto che il corpo. Quindi c'è molto che ancora dobbiamo comprendere. E con questo piccolo testo ho cercato di offrire il mio contributo alla comprensione del corpo, avendo come punto di riferimento i giovani e i loro disagi. Ecco, lei ci parlava che tutto è corpo, ma il corpo non è rappresentato solo dalla fisicità. Ci spiega quali sono gli elementi che lo caratterizzano? Il corpo di per sé ha una natura ambivalente. Il corpo è natura e cultura. Natura perché risponde a tutta una serie di leggi biologiche e fisiologiche dell'accrescimento, ad esempio. Ma anche cultura perché è inondato da significati sociali e culturali. Essere donna in un contesto occidentale è diverso rispetto all'essere donna, per esempio, in un contesto africano o un altro tipo di contesti sociali e culturali. I significati e le attribuzioni culturali e sociali che vengono fatte a corpo cambiano a seconda del contesto all'interno del quale è inserito. Ma è anche individualità e collettività. Individualità perché la mia esistenza si fonda sul mio corpo. Io esisto perché ho il mio corpo, la mia identità è rappresentata dal mio corpo. Ma allo stesso tempo attraverso il corpo io anche entro all'interno della collettività, faccio parte di un gruppo. Quindi è apertura e chiusura. Chiusura perché attraverso il corpo io riesco a fare una distinzione tra ciò che io sono e gli altri. Ma allo stesso tempo è apertura perché io incontro l'altro, conosco l'altro attraverso il mio corpo. Quindi il corpo è sempre e comunque un gioco di ambivalenze. E questo ovviamente lo rende un elemento estremamente affascinante, anche di riflessione e di approfondimento culturale. Nel testo noi abbiamo provato a rappresentarlo attraverso quattro dimensioni, che provo a rappresentare proprio brevemente. Una dimensione sociale simbolica, una psichica, una sensoriale e una organica. Quindi il corpo ha una dimensione sociale e simbolica per quello che dicevamo prima. È inserita all'interno di un contesto sociale e culturale, che gli dà significati sociali e culturali. Ma allo stesso tempo il corpo veicola dei significati sociali e culturali. Ad esempio la mimica o tutti i significati simbolici che sono attribuiti al corpo. Ti acomo con tutto il mio cuore. Quindi noi riteniamo che all'interno del cuore ci sia in qualche modo il significato, il simbolismo dell'amore. Per non parlare di tutti i significati che sono legati alle parti del corpo. La mano è diversa dal punto di vista sociale e culturale rispetto al seno, per esempio, o ai fianchi. Insomma, sulle varie parti del corpo c'è tutta una serie di attribuzioni di significati. Poi c'è una dimensione psichica. Attraverso il corpo io manifesto i miei moti interiori. C'è uno stretto legame tra ciò che io vivo interiormente e quello che io manifesto. Da un certo punto di vista è solo attraverso il corpo che prendono sostanza i miei pensieri, ma anche le mie sensazioni, i miei stati d'animo. L'ansia, da un certo punto di vista, esiste nel momento in cui trova una sua espressione attraverso il corpo, per esempio. E quindi tutto quello che ne consegue. Poi c'è una dimensione sensoriale che è legata ai sensi. Noi attraverso i sensi entriamo in contatto con il mondo, lo conosciamo. Si attua quel meccanismo di sensazione, percezione e conoscenza. E quindi attraverso i sensi io conosco il mondo, entro in relazione con esso. E infine poi c'è la parte organica, la dimensione organica, quella tangibile, quella fatta di ossa, di muscoli, di organi. E quindi è la parte, se vogliamo, più fisica. Ecco, queste quattro dimensioni ci permettono di comprendere la complessità del corpo. E una volta compresa questa complessità ci permettono anche di capire in che modo il corpo entra in relazione con gli individui e con la società. E nel testo abbiamo provato ad applicare questo modello per comprendere il corpo dei giovani e le forme di disagio che loro stanno vivendo in questa società così complessa. Ecco, lei parlava di queste quattro dimensioni e di come vengono influenzate dalla natura e dalla cultura. La visione epigenetica ci ha dato consapevolezza del ruolo dell'ambiente e sullo sviluppo della persona. Quindi natura e cultura, genetiche ed ambiente, sono gli elementi che influenzano lo sviluppo di ognuno di noi. Partendo da questa prospettiva, lei parla di sindrome dei corpi multipli. Ci spiega di che cosa si tratta? Sì, dunque la fenomenologia, a partire da Husserl, poi Merleau-Ponty, Sartre, ci ha offerto una prospettiva diversa sul corpo. Soprattutto nel momento in cui venne introdotta questa idea, tutta tipica della cultura tedesca, di una distinzione tra corpo e live. Sono due termini che non hanno un corrispettivo in italiano, provo proprio a spiegarli. Il corpo è la parte fisica, quella tangibile, quella che dicevamo prima organica, fatta di facci muscolari, di organi. Il live, invece, è la rappresentazione che io ho del mio corpo. Quindi come io percepisco il mio corpo. Può sembrare una distinzione sottile, ma in realtà è profonda. Noi viviamo quotidianamente questa distinzione tra il corpo e il live. Quando ci capita, per esempio, di ascoltare la nostra voce, che ovviamente è una rappresentazione del corpo, registrata, noi non la percepiamo come nostra, perché abbiamo una percezione diversa dalla nostra voce. O quando, per esempio, ci capita di fare dei selfie o di vedere delle foto e non ci riconosciamo, ci diciamo, ma forse non sono venuto bene, forse non sono così, forse devo rifare la foto. In realtà, appunto, è questa dimensione fenomenologica tra il corpo così com'è e il live, il corpo così com'è io, lo percepisco. Ora, la tecnologia oggi ci offre una grande possibilità di veicolare il nostro corpo, la nostra esistenza attraverso i social. E quindi, in effetti, sui social noi assistiamo a una moltiplicazione di corpi. I social sono una vetrina su cui vengono esposti milioni di corpi. E quindi, nella società della trasparenza, noi cerchiamo di veicolare il nostro corpo. Attraverso foto, attraverso video e attraverso tutte le possibilità che ci vengono offerte. Il punto è che noi veicoliamo questi corpi, avendo anche la possibilità di poterli modificare, di adattarli. Ci crediamo dei demiurghi, da un certo punto di vista. Quindi, modificiamo la nostra immagine, applichiamo dei filtri, possiamo cambiare il corone dei nostri capelli, la forma dei nostri occhi, perfino la forma di questi nostri corpi. E immaginiamo dei preadolescenti e degli adolescenti che sono immersi in queste possibilità, in questo campo di opportunità. E quindi possono modificare i propri corpi, veicolarli. E, ad esempio, può accadere che sui social questi corpi alterati ottengano consenso e quindi diano gratificazione. Ecco, immaginiamo questo processo moltiplicato quotidianamente per tanti corpi che vengono veicolati, si arriva a un punto che noi abbiamo definito di rottura. Per cui si ha una scissione tra il corpo reale, cioè il corpo per come io sono nella realtà, nella vita tangibile, e il corpo virtuale, il corpo che io rappresento, il corpo che io veicolo attraverso i social. Ad esempio, un effetto di questa scissione, e noi l'abbiamo percepita con alcuni studi che sono arrivati soprattutto dagli Stati Uniti in America, in cui hanno individuato una sindrome che si chiama la Snapchat Dismorfia. E cioè questo fenomeno per cui soprattutto le preadolescenti, le ragazzine, a un certo momento decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per diventare, per avere un volto simile o uguale a quello che loro vedono attraverso i filtri che hanno applicato sui social. E quindi è proprio un cambio di paradigma, perché è la volontà di voler portare il corpo virtuale nella vita reale. Ma questo ovviamente crea tutta una serie di problemi, perché una moltiplicazione di corpi virtuali, e alla fine sono dei corpi senza identità. E un corpo senza identità porta a un individuo senza identità, senza il corpo che ci dà un'identità. Noi siamo degli individui senza fondamento, quindi senza matrici di senso, se vogliamo. E quindi ecco che abbiamo questa sindrome, perché questa moltiplicazione di corpi, questa scissione tra il corpo reale e i corpi virtuali, e questo dualismo tra il corpo per come io sono e il corpo che io rappresento, fa sì che si generino tutta una serie di disagi, che portano a tutta una serie di conseguenze negative sui giovani. Ecco, professor Di Gennaro, alla luce di quello che ci siamo detto finora, lei ha disegnato anche un contesto di fragilità dei nostri ragazzi. E in questo contesto, qual è il compito del nostro sistema educativo per proteggere, far sviluppare in miglior modo possibile i corpi dei nostri alieni? Le Breton ci dice che il corpo è un vettore semantico, intendendo la possibilità di analizzare il corpo, comprenderlo, e sulla base di questa analisi, di questa comprensione, avere una rappresentazione di quelle che sono le dinamiche individuali e le dinamiche sociali. L'abbiamo detto prima, il corpo è il centro della mia esistenza e quindi è il centro della mia individualità, ma allo stesso tempo, per via di quella natura ambivalente che abbiamo raccontato in precedenza, il corpo è anche oggetto di influenze di tipo sociale e culturale. Quindi tutto quello che accade sul corpo rimanda all'individuo e rimanda alla società. Quindi le Bretonne ci sortano a analizzare il corpo appunto nel suo essere vettore semantico, affinché poi si possano comprendere quelle che sono le dinamiche individuali e sociali. È una prospettiva molto interessante che noi abbiamo cercato di attuare all'interno di questo testo. Ma allo stesso tempo dobbiamo concentrare il corpo anche come un vettore educativo e cioè attraverso il corpo e sul corpo io posso inserire tutta una serie di interventi di carattere educativo che mi permettono di superare alcune delle criticità e alcuni dei disagi che vivono gli adolescenti. Perché ad esempio quando parliamo del senso di anomia o di indeterminatezza che caratterizza gli adolescenti, noi possiamo leggerla anche dal punto di vista del corpo. Perché se io non ho un corpo all'interno del quale utilizzo un termine forte all'interno del quale io non mi sento a mio agio ecco che perdo un punto di riferimento esistenziale fondamentale e allora un intervento educativo che mi permette di acquisire una relazione proficua e positiva con il mio corpo e la mia corporeità è una base fondamentale per un'esistenza più felice e appagante. Quello che dobbiamo fare è restituire corporeità agli individui cioè centrarli nuovamente sulla loro dimensione corporea. Attenzione, io non sto affermando che la tecnologia sia in qualche modo dannosa o sia qualcosa che deve essere superato o evitato. La tecnologia è fondamentale, ci ha permesso uno sviluppo sociale anche democratico piuttosto rilevante e assolutamente dobbiamo fare in modo di convivere con la tecnologia. Il punto è che a un certo momento dobbiamo definire dei confini oltre i quali non si può andare perché noi comunque dobbiamo mantenere la nostra dimensione umana e la nostra dimensione corporea. E quindi un altro elemento importante che dovremmo cercare di sviluppare nel breve e soprattutto con i dispositivi educativi che abbiamo a disposizione alla scuola ma anche al di fuori della scuola è quello di costruire un nuovo modo di relazionarsi con la tecnologia affinché questo connubio tra l'essere umano e l'essere tecnologico possa trovare un punto di equilibrio. Ecco, quindi un buon uso della tecnologia alla fine il concetto che lei ci propone di fare un buon uso della tecnologia. Un'ultima domanda prima di lasciarci. Un aspetto che mi ha incuriosito è che proprio nel titolo del suo libro le pone l'accento sul fatto che i giovani oggi non sanno neanche fare la capovolta. Ci spiega perché questo semplice esercizio è così importante tanto da essere inserito nel titolo e cosa rappresenta? Sì, se vogliamo è stata anche una provocazione. Lo stimolo è partito dalla riflessione di come qualsiasi gesto che noi facciamo qualsiasi movimento qualsiasi attività che noi mettiamo in atto con il nostro corpo è sì un aspetto legato alla nostra motricità alla nostra capacità di sapere svolgere per esempio in questo caso una capovolta ma è anche frutto di una propria identità e di un proprio vissuto. Quindi la capovolta che noi la consideriamo essere se vogliamo un gesto molto legato per esempio all'infanzia a questa voglia di sperimentare dei bambini e lo riteniamo quasi come dire scontato che a un certo momento della nostra vita impariamo a fare la capovolta ma in realtà quello che ci siamo accorti è che sempre meno c'è questa voglia di anche capovolgere il proprio corpo e quindi di affrontare dei gesti, dei movimenti che sono un po' più complessi perché molti osservatori hanno come dire giustamente affermato che questo è dovuto a una penuria a un impoverimento delle capacità motorie dei bambini e delle bambine questo perché? Perché giocano meno perché stanno meno all'aria aperta quindi hanno meno possibilità di sperimentazione questo è vero ho provato ad aggiungere un ulteriore elemento e a dire guardate che non è solamente una questione di motricità di capacità di movimento ma è anche una dimensione esistenziale perché per fare la capovolta io voglio in qualche modo voler ribaltare il mondo ho la necessità di sentirmi in equilibrio con il mio corpo tanto da portarlo a un disequilibrio perché per fare la capovolta come dire le mani devono andare verso il terreno i piedi vanno verso l'alto mi si ribalta completamente la prospettiva quindi per poterla realizzare io devo sentirmi sicuro che il mio corpo mi sorregge ora se io non ho un rapporto fecondo cioè se io non mi sento in armonia con il mio corpo e questo semplice gesto ma comunque complesso tenderei a non farlo perché ovviamente perché non mi sento sicuro nel mio habitat corporeo e quindi il fatto di non fare la capovolta non è solo una questione motoria ma è anche un elemento di carattere esistenziale su cui noi dobbiamo riflettere grazie professor Di Gennaro per essere stato con noi grazie a voi è stato un vero piacere grazie a voi grazie a voi